Da drammatiche immagini che rimarranno nella mente di quel martedì 25 luglio ci sono le fiamme che hanno colpito la nota azienda Bella Fresca, sita in via Agosta che ha portato il proprietario alla decisione di chiudere lo stabilimento e sospendere parzialmente la produzione con inevitabili disagi all'intero indotto. Sul luogo in segno di vicinanza dall'amministrazione saranno portati il simulacro e le reliqui di Sant'Antonio da Padova, protettore del quartiere Reitana che ricade nella parrocchia di Aci San Filippo. Dopo le due giornate dedicate alla preghiera e al ringraziamento celebrate la scorsa settimana nel segno della fraternità desideriamo stare vicini alle famiglie e ai lavoratori in difficoltà e vogliamo condividere l'amore per la verità e la giustizia e quanto spiega il parroco della Basilica di San Filippo da Giro Don Roberto Strano. Mettiamo in atto le misure di prevenzione, aggiunge che sono strumenti di civiltà e invitiamo alla conversione coloro che commettono reati contro l'umanità. Custodiamo così la nostra casa comune.